gobi gobbe buongiorno buongiorno preoccupati ma allora preoccupato no però mi aspetto di mi aspetto molto da qui a già da qui a lunedì che ci sarà la prima di campionato ancora di più da qui al 30 agosto al 31 agosto perché la rosa è corta bastava guardarla distinta dalla formazione di ieri al di là di quelli in campo che già in cui già manca qualcosa anche la panchina se la rosa è corta 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 secondo me al di là degli interventi che dovranno essere fatti dalla società da giuntoli di aggiunta ai giocatori che abbiamo attualmente in rosa secondo me bisognerà fare un discorso anche su quelli messi fuori rosa perché siamo corti probabilmente su chiesa almeno anzi direi solo su chiesa perché comunque nella parte offensiva mancano diverse cose comunque iscrivetevi al canale perché ci siamo si ricomincia lunedì si fa sul serio ieri si è fatto meno sul serio un po più delle altre volte se io devo pensare alla juve da norimberga a ieri ho visto decisamente dei miglioramenti si vedono dei pezzi di juve dei pezzi di juve di tiago motta nella costruzione dal basso soprattutto nel fatto di essere molto alti di portare tanti uomini alla metà campo avversaria aggressivi e quindi nella riconquista dov'è che manchiamo manchiamo un po' instabilità difensiva e manchiamo soprattutto nella costruzione nella produzione offensiva ed è infatti in attacco che abbiamo le difficoltà maggiori in queste amichevoli non abbiamo fatto mai gol su azione abbiamo creato pochissimo perché ci mancano delle cose ci manca il trequartista ci mancano gli esterni uea e ildis uea sicuramente in forma però non può essere il titolare della juve da ildis mi aspetto decisamente molto di più decisamente molto di più mi aspetto da ildis e quindi non sono preoccupato perché comunque quest'anno con il nuovo allenatore con questo cambio totale di modalità di gioco dobbiamo aspettarci delle altalene c'è inutile che stia anche io raccontarcela se qualcuno pensava di avere la squadra di punti in bianco la squadra schiacciassassi che che andrà a dettare legge a destra e sinistra probabilmente vive in un altro pianeta perché è chiaro che quando cambi un allenatore ma soprattutto cambi una filosofia di gioco in maniera così radicale ci vuole del tempo e comunque la formazione la rosa è acerba e ci vuole tempo fine mettiamoci il cuore in pace mettiamoci il cuore in pace io guarda ve lo dico sinceramente sono già contento di aver visto in queste tre amichevoli dei progressi perché comunque ho visto delle cose che sono cose che sono state insegnate quindi ho visto che c'è stato un lavoro che è andato in una certa direzione sono tra quelli però che si armerà di pazienza perché a quest'anno ci saranno delle altalene e importantissimo ancora di più con miner perché comunque nella produzione offensiva il suo ruolo è fondamentale e quindi io mi aspetto tanto da 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 lui se arriverà e questo se arriverà probabilmente oggi è meno al condizionale perché comunque giunto lì ieri non era con la squadra è andato a parlare con percassi con l'atalanta c'è stato un un disgelo nei rapporti c'è stato un avvicinamento e quindi direi che siamo vicini la juve ha fatto un'offerta importantissima perché si parla di 50 52 53 milioni con i bonus che si può arrivano praticamente permettono di arrivare l'offerta tra i 55 57 quindi ci siamo io devo fare un appunto su tutta questa situazione che veramente secondo me la juventus dovrebbe piantarla di andare a finanziare le squadre italiane autofinanziarsi e autogestirsi con la nesgen e andare a comprare all'estero lo dico a malincuore perché io vorrei tanto che ci fossero più italiani nella juve che ci fosse una scelta diversa però lo vediamo nei rapporti che ci sono stati ad esempio col bologna con l'atalanta in ultimo un atalanta indispettita perché la juve non ha trattato con l'atalanta ma scusatemi è da mesi dall'anno scorso che aveva detto che voleva andar via aveva un accordo verbale con l'atalanta in tal senso come succede tutte le volte ci sono i rapporti con gli intermediari del giocatore per capire se c'è il gradimento per capire come potrebbe essere impostato un contratto poi si va a trattare con la società ma vai a trattare con la società quando hai i soldi per farlo un atalanta che ha detto che il valore del giocatore è 60 milioni da juventus cosa deve andare a trattare con l'atalanta quando non hai soldi per per fare l'offerta comincerà ad andare a trattare quando hai soldi per fare l'offerta quindi tutte queste queste da noi si dice queste pugnette queste pugnette qui di orgoglio di 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 principio che non esistono sempre solo per un motivo perché c'è di mezzo la juve quindi quando c'è di mezzo la juve si alzano le cifre quando c'è di mezzo la juve ti dà fastidio perché la juve è la squadra più forte più potente più blasonata d'italia in termini di di blasone appunto e quindi c'è l'invidia c'è il il fastidio che sia verso i potenti come sempre stato nella storia sociale della vita della vita umana e basta cioè non è possibile tutte le volte una rottura di coglioni del genere per cose senza motivo anche questa volta l'atalanta si è messa lì si è puntata a fare questioni di orgoglio inesistenti ridicole mamma mia che pena ragazzi comunque sembra molto vicino a questo punto e questa settimana bisognerà chiudere perché io vorrei che ci fosse per il como idem per gli esterni anche nico gonzalez sembra decisamente vicino nico gonzalez all'esterno dei miei sogni no ma sicuramente è un valore diverso rispetto a uea e attualmente ad ildis è un giocatore già abituato a giocare nel campionato italiano ci sta in una rosa ci sta assolutamente dopodiché la juve dovrà andare a prendere un altro esterno secondo me il difensore e poi spererei che riuscissero a trovare la quadra con chiesa perché un chiesa in forma in questo modulo tattico con questa rosa secondo me guardandoli in modo egoistico quindi tralasciando gli aspetti caratteriali e gli aspetti che chiesa evidenziati in questi mesi di queste sue richieste assurde di questa poca gratitudine verso la juve situazioni che hanno fatto muovere anche suo padre per cercare di ricucire tra l'altro quindi lasciando stare tutti questi aspetti da un punto di vista egoistico un chiesa in forma in questa squadra ci starebbe alla grande in questa rosa di esterni ci starebbe alla grande vorrei tanto che riuscissero a farlo rinnovare quindi reintegrarlo e ad avere così un acquisto in più perché di fatto avremmo un chiesa tra gli esterni che attualmente non viene preso in considerazione sono tanti i giocatori che dovranno dimostrare delle cose Vlaovic in primis chiesa se verrà reintegrato Locatelli assolutamente e quindi quest'anno io punto molto anche sulla voglia di rivalsa di questi giocatori poi qualcuno dirà Vlaovic l'avete visto anche ieri questo per campionato ha fatto fatica sì ha fatto fatica assolutamente quelle poche palle che ha avuto doveva fare meglio assolutamente però bisogna anche dire che la produzione offensiva è stata veramente pari a zero praticamente e quindi ancora una volta vi dico una cosa pazienza tanto quest'anno poi tutti i nodi nel caso vengono al pettine dobbiamo avere la pazienza di vedere come si svilupperà quest'anno per fare quello che ho detto mille volte l'anno scorso per cominciare per poter avere gli elementi per giudicare davvero quei giocatori che secondo me l'anno scorso non erano giudicabili perché non erano messi nelle condizioni di poter essere giudicati quest'anno lo avremo per cui pazienza anche da questo punto di vista basta passate una buona giornata ci vediamo nei prossimi giorni